È stato un consiglio degli affari esteri molto importante in cui la posizione e la richiesta dell'Italia era un impegno da parte di tutti gli stati europei a bloccare nel futuro l'export per gli armamenti verso la Turchia, perché non possiamo accettare quello che sta facendo la Turchia. L'Europa parla con una voce oggi e tutti gli stati condannano quello che sta facendo la Turchia nel territorio siriano e soprattutto tutti gli stati membri si sono impegnati a bloccare l'export degli armamenti. Questo vuol dire che nelle prossime ore anche l'Italia firmerà con un decreto ministeriale che devo firmare come ministro degli esteri l'export di armamenti verso la Turchia per tutto quello che riguarda il futuro dei prossimi contratti e dei prossimi impegni. Era importante per noi che tutta l'Europa assumesse la stessa posizione e abbiamo lasciato ai singoli stati l'impegno di farlo perché questo crea immediatezza. Cioè ognuno di noi dopo questo impegno potrà firmare i propri atti che servono a bloccare l'export e ovviamente questo fa sì che non si debba lavorare ad un embargo europeo che poi porta a mesi e mesi di lavoro che poi avrebbero sostanzialmente vanificato l'immediatezza dell'intervento. Quindi riguarda solamente le nuove commesse, cioè quelle già in esse rimangono... E' ovvio che riguarda quello che succede da domani in poi. Porterete in Parlamento questo decreto? Non serve che vada in Parlamento perché per le nostre regole è un atto non normativo, un atto di secondo livello, un decreto ministeriale come quello che abbiamo firmato ad esempio sui rimpatri, sui paesi sicuri, quello che abbiamo firmato la settimana scorsa. Domani io sarò in Parlamento per l'informativa al Parlamento, alla Camera dei Deputati per dare tutte le informazioni che servono al Parlamento perché mi ha chiesto di andare a riferire e nell'ambito di quella informativa spiegherò anche i dettagli di questo intervento che facciamo sul blocco di export di armamenti verso la Turchia. Era importante che l'iniziativa fosse europea perché in questo modo tutta l'Europa si mette in una posizione alla pari, tutti gli stati europei si mettono in una posizione di pari condizioni nei confronti della Turchia, in modo tale che nessun paese ne risentisse più di un altro. Tutti insieme lavoreremo ovviamente al blocco dell'export delle armi e ho detto anche a Federica Mugherini che ovviamente coordina e presiede i lavori del Consiglio degli Affari Esteri che ci sarà bisogno nei prossimi consigli europei di fare uno screening dell'applicazione di questo impegno in ogni Stato. Questo è molto importante perché ognuno di noi si è impegnato, tutti noi dovremo emettere degli atti, emanare degli atti amministrativi o addirittura legislativi, ognuno con i suoi tempi ma sicuramente saranno tempi inferiori ad una procedura di embargo dell'Unione Europea. Detto questo però voglio dire anche che io credo nella soluzione diplomatica. Quindi questa è un'azione che abbiamo fatto come paesi europei sul blocco delle esportazioni, ma adesso col dialogo, con la diplomazia dobbiamo lavorare a fermare questa escalation e inizieremo dalla riunione dell'alleanza anti-Daesh che consentirà di mettere insieme tutti i paesi che in questo momento sono preoccupati e anche quelli che sono attori di questa crisi. In questo momento secondo me è molto importante il segnale unitario come Unione Europea, come Consiglio dei Ministri degli Affari Esteri sul fatto che condanniamo l'azione, chiediamo di fermare questa azione e allo stesso tempo attiviamo una procedura concreta sulle armi. Poi ovviamente giovedì ci sarà il Consiglio Europeo e in quella sede ci saranno tutte le discussioni eventuali.